Allora, le migliori estensioni per ChatGPT in realtà dipende anche da quando fate la ricerca, potrebbe variare molto, ad esempio io potrei guardare e cercare le 10 migliori Chrome Extension ChatGPT estensioni e possiamo vedere un po' cosa sono. Io ne ho già provate alcune di queste, proprio ChatGPT for Google è un'estensione che praticamente consente di, mentre si fa la ricerca su Google, permette anche di avere la risposta di ChatGPT. Web ChatGPT invece è una cosa molto carina che permette di usare ChatGPT anche con notizie recente, perché fa una ricerca su un motore di ricerca che non è Google, tra l'altro, e prende alcune righine di ciò che trova e su quelle fa la ricerca. Se vogliamo possiamo provare, per esempio, a installare Web ChatGPT e vedere quindi come funziona. Quindi, per dire, andiamo in qui, in questo elenco qua, e vediamo che qui c'è me la possibilità di fare GetWebChatGPT. Facendo GetChatGPT vedete che ci manda direttamente sul Chrome Web Store e noi abbiamo, io l'avevo già attivato, alla sua volta me l'avevo disattivato, quindi o lo si installa o si attiva questo elemento. Allora, quando si attiva questo elemento, quello che succede è che abbiamo la possibilità di avere ChatGPT che lavora con Web Access. Quindi se noi andiamo sul nostro ChatGPT, dove adesso facciamo un refresh, vediamo quali sono. Ecco, purtroppo qui c'è un piccolo bacco per cui compare due volte, almeno su Edge, ma su Chrome normale questo problema non c'è. Comunque, il discorso è che si abilita questo plugin e gli si dice, ad esempio, di cercare le sue notizie relative a, che ne so, Bard, Google. E adesso, purtroppo, c'è questo problema della doppia, mettiamoli tutti e due. Quindi, facendo così, si può dire da 3 a 10 risultati, risposte praticamente dell'ultima settimana. Vabbè, adesso qui, visto che è duplicato, facciamo sia sopra che sotto, e poi sceglie il prompt. Questo è un po' complicato da spiegare in brevissimo, ma diciamo che potete, le cose più interessanti, dire quante risultate cercare, quindi per esempio 10, per esempio si può cercare solo in Italia, e poi si può fare il play. Allora, quando si fa il play, quello che succede, non so se avete visto, che lui, praticamente, fa una ricerca, su tipo Google, per vedere un po' che cosa sta succedendo. E di questi dati, questi 10 dati che dà, gli dà delle istruzioni specifiche a ChatGBT, e gli chiede delle notizie. E, mentre, se non ci fosse questa cosa qua, lui non saprebbe cos'è, perché questo Bard è un qualche cosa che è nato solo qualche settimana fa, anche il nome, infatti se noi togliamo il plugin e gli mettiamo tog...parlami...parlami del programma...llm Bard di Google, probabilmente... ok, allora, non riesce a trovare nulla, perché non riesce a trovare nulla, perché, ah sì, perché sta facendo una ricerca, ecco qui ci sono un po' di confusioni, qui diciamo che dovremmo disabilitare, per essere sicuri, il plugin, in questo caso vedete che funziona, tra virgolette, e a questo punto, praticamente, sì, lui dovrebbe partire, cioè dovrebbe...facciamo un po' una cosa così, disabilitato, parlami, Bard di Google, così, ok. Ok, in realtà esisteva già... Ok, qui in realtà lo conosce già, ma secondo me perché il modello default, sostanzialmente, fa qualcosa di più, però abbiamo il legacy, quello vecchio, e gli diciamo legacy, parlami del programma di...llm di Google Bard, e gli occhi diamo alla modalità, ok, perfetto. Quindi, vedete che in sintesi hanno fatto anche qui un lavoro ulteriore sul modello di default, quello a pagamento, e quindi in realtà vale effettivamente la pena anche questo. Altre cose che possono essere, diciamo, abbiamo detto, chat GPT, web chat GPT, possiamo fare anche la chat GPT for Google, che è un'altra estensione, e quando attiviamo questo elemento, chat GPT, quando è attivato questo elemento, succede che tutte le chiamate, quindi che vengono da...desso andiamo, andiamo un attimo, la cerchiamo, chat...allora, queste sono disabilitate, chat GPT for Google, anche questa, disabilitiamo la... qui, torniamo sulla nostra, facciamo un refresh, ok, quindi vediamo che non ci sono le estensioni qua, allora, quella funzione lì, in realtà si attiva solo quando si cerca su Google, quindi in particolare, per esempio, se si fa un Google.com, e si cerca qualcosa, per esempio, Pippo, ok, allora, la cosa che non so se notate, che c'è, viene attivata questa finestrella, e questa finestrella permette di cercare dell'informazione, quindi in particolare permette di, intanto c'è, di configurarlo, quindi dovrebbe dire esattamente altre cose, di configurazioni, ma evidentemente è un po' più complicato, ma se noi gli diciamo, ad esempio, qui, di cercare Einstein, ecco che vediamo che compare questa finestrella, e questo qui è effettivamente chat GPT, quindi esattamente come risponde qua, risponde anche su altri motori di ricerca, e facendo let's chat è possibile domandargli altre cose, quindi continuare la chat anche qua, dice, per esempio, chi era sua moglie? Ok, era Mileva Maric, quindi vedete che in realtà anche questa estensione è molto interessante, così come pure anche la Power, Super Powers, ma quella è un po' più complicata, quindi la lascerei, diciamo, lascerei a parte. Quindi diciamo, le estensioni sono un universo, quindi se voi poi volete andare sull'estensione diventa anche un po' complicato.